Orevole Ruoco, avete annunciato battaglia sui mutui, in particolare su questa direttiva europea che se recepita dall'Italia porterebbe dopo sette rate del mutuo non pagate a un sequestro automatico dell'immobile. In realtà non sono soltanto sette rate non consecutive non pagate, ma qualunque forma di inadempimento anche un ritardo di per sette volte non consecutive nell'intera vita del mutuo potrebbe comportare, comporterà se questa cosa viene recepita attraverso questo decreto legislativo, comporterà la perdita della casa da parte del soggetto, del risparmiatore e debitore nei confronti della banca. Che cosa chiedete voi? Chiediamo l'immediato ritiro di questa cosa, è inaccettabile che una persona sia messa in così malomodo nelle mani di un istituto di credito che dispone del patrimonio immobiliare della gente in modo così semplice ed immediato, questo è inaccettabile.